Non arrivano i giornali perché dicono che il distributore non ci arriva sul piano economico. Arrivano il terremoto, i giornali arrivano, è un diritto le persone leggere. Abbiamo aperto l'edicola senza i giornali. Arrivano a Piovedorina, qui da noi i giornali non arrivano. Era il 4 giugno 2018, quasi due anni dopo il sisma del centro Italia. Da poco Antonella aveva riaperto la sua edicola delocalizzata, ma senza giornali. Giulio Lattanzi, da poco era tornato a vivere a Castel Sant'Angelo sul Nera nella soluzione abitativa di emergenza. Sono passati altri due anni e i quotidiani non ci sono ancora, non solo a Castel Sant'Angelo sul Nera, ma anche ad Arquata del Tronto, nell'Ascolano, a Visseussita, nell'Altonera e sono tutti terremotati da quattro anni in emergenza. Eppure in quella sanitaria del Covid, nella fase di lockdown, il giornale e quindi le informazioni sono stati considerati beni essenziali, tanto che le edicole erano inserite in quelle attività che dovevano restare aperte. Giuseppe Capocci ha delocalizzato la sua edicola Visse un anno e mezzo fa e al posto dei giornali vende le guide per le escursioni in montagna. Questo è lo spazio da quando io ho riaperto in questa struttura ancora provvisoria per i giornali, però come vedi al momento ci sono dei libri, ma questo spazio è tutto dedicato all'edicola. Come puoi vedere, proprio la scaffalatura è stata fatta apposta perché pensavo che tornassero i quotidiani, i giornali, le riviste, gli stampati. Giulio Lattanzi della questione ha anche informato il presidente Giuseppe Conte, e quando venne in visita nelle zone terremotate lo scorso settembre e la regione Marchesi era assunta l'impegno di trovare un accordo con il distributore, Adriatica Press. Ma è passato un altro anno e dal dialogo con il distributore è uscita una situazione ancora più complessa. Non solo Vissu, Ussita, Castel Sant'Angelo sul Nera, ma anche altri otto comuni montani e terremotati del Maceratese rischierebbero la mancata consegna dei quotidiani in futuro. Alla fine di maggio i sindaci hanno firmato una lettera di denuncia della situazione, informando tutte le autorità, compreso il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ci hanno tolto un diritto e lo rivogliamo. Il distributore dice che non ha più convenienza a portare le copie. Non ha più convenienza a portare le copie, però siccome abbiamo alle spalle una regione e uno Stato che dovrebbe tutelarci, considerato le condizioni in cui viviamo da agosto 2016, lo pretendiamo. Ma può un'edicola non ricevere più i giornali? A quanto pare no, secondo il decreto 170 del 2001, al centro di una sentenza del giudice di pace di Camerino, in cui è stato respinto il ricorso del distributore, Adriatica Press, che opera su Marche Abruzzo, confermando allo stesso l'ingiunzione di pagamento da 12.000 euro dopo l'indagine della Guardia di Finanza di Camerino. Le fiamme gialle, dopo l'esposto che segnalava centinaia di casi, dello SNAG, il sindacato autonomo giornalai, avevano accertato che la società di distribuzione applicava agli edicolanti costi aggiuntivi per la distribuzione dei giornali, ovvero 40 euro a settimana e 200 euro una tantum, una violazione della normativa che ha portato il comune di Esanatoglia all'ingiunzione e Adriatica Press ha il ricorso, poi respinto dal giudice di pace, come spiega l'avvocato Oberdan Pantana. Il distributore ha fatto appello e la prossima udienza si terrà il 30 giugno al tribunale di Macerata. La sentenza del giudice di pace di Camerino è molto chiara. È illegittimo ed illegale applicare dei costi aggiuntivi alla distribuzione dei giornali da parte del distributore nei confronti del rivenditore, nei confronti dell'edicolante. Non è perché l'edicola X vende più giornali, allora portiamo là il prodotto editoriale rispetto all'edicola Y, che siccome vende meno giornali, allora non possiamo distribuire perché non ci rientriamo come giustificazione sotto l'aspetto anti-economico. Tutto questo è anche ben chiarito dal precedente giurisprudenziale della Corte d'Appello di Palermo nel quale ha sottolineato questo discorso qua, ossia l'anti-economicità non può essere una giustificazione al fatto di non distribuire il prodotto editoriale al singolo rivenditore perché vende poche copie. Ma questo è un diritto costituzionalmente garantito e pertanto è come tale deve essere posto in essere senza alcuna discriminazione nemmeno tra i rivenditori. Il diritto costituzionalmente garantito è quello all'informazione delle comunità? Sì, stiamo parlando proprio di quello.